Ciao ragazzi, buonasera di nuovo insieme, oggi per prima cosa voglio ringraziarvi tutti per i numerosi complimenti che mi state facendo, mi avete un po' colpito diretto al cuore perché sono un tipo anche molto sensibile, quindi non è facile nemmeno fare questo discorso per me però ci tenevo molto perché alcuni di voi mi hanno fatto veramente quasi commuovere soprattutto quando mi parlate di umiltà eccetera, quindi grazie veramente di cuore, siamo ormai a oltre 100 lezioni, siamo partiti da pochissimi diciamo seguaci, ora siamo già un bel gruppetto e io sono felice di questo, vi chiedo quindi solo di farmi qualche critica per questo nuovo anno per poter migliorare ancora di più, fare contenuti sempre più interessanti e soprattutto se avete dubbi su qualche argomento, se volete approfondire qualche tecnica, ovviamente quelle che riesco, sono in grado di insegnare, come sapete ad esempio slap eccetera, non sono alla mia portata diciamo. Detto questo, quindi il compito che vi do per questo inizio 2022 è quello di fare sì che io abbia un programma più o meno a tempo più o meno lungo diciamo di lezioni da fare che non siano quelle che piace fare a me ma che siano proprio dirette ai vostri bisogni, ecco quindi anche se magari mi chiedete qualcosa e poi viene pubblicato dopo sei anni, no scherzo, dopo qualche settimana, comunque io mi segno sempre tutto e cerco di non tralasciare niente, o almeno se è una cosa che non riesco a fare, che non sono in grado di fare, lo dico subito